Sì, sì, un momento! Un'esclusiva! Il DG! Un momento! Un momento! La pubblicità! La diretta! 20 a 3! Adesso, adesso! Con Sorrisi, scegli tu la serata TV in un colpo d'occhio, la guida ai film, tutti i programmi anche via satellite, lo sport ora per ora, la TV dei bambini, Sorrisi è tutto nuovo, più ricco! Scegliamo noi! Stasera, show! Eppa! Con Sorrisi, la TV, la scegli tu! Gagliardissimo!